All'indomani dell'appello lanciato dal segretario della FIMG Abruzzo, Mauro Petrucci, arriva la notizia che questa settimana si riunirà il tavolo regionale per discutere sul rinnovo dell'accordo integrativo dei medici di medicina generale, atteso da 18 anni. Il dottor Petrucci spiega che le criticità esistenti sono molteplici e se non verranno risolte rischiano di far collassare il servizio sanitario abruzzese. Quali le richieste che porterete al tavolo dopo un'attesa che dura dal 2006? Che sia praticamente calato sul territorio quelle che sono le linee guide dell'ACN, quelle che sono le linee previste dal DM77 sulla ristrutturazione della medicina territoriale, che se riusciremo a chiudere in fretta, ma soprattutto trovando le risorse, saranno indispensabili per dare una maggiore risposta a quelle che sono le esigenze oggi della medicina del territorio, delle aree interne, perché con il DM77 e con quanto previsto dal PNRR c'è un cambiamento di gran parte della sanità, dove moltissime competenze dovranno essere traslate dall'ospedale sul territorio. Sono i medici di medicina generale che devono prendere in carico queste nuove problematiche, allora questi devono essere mezzi in condizioni di poterlo fare. L'accordo nazionale prevede la costituzione delle cosiddette AFT e UCCP, che sono delle aggregazioni funzionali territoriali e delle aggregazioni multiprofessionali, dove lavorando in equip con altri colleghi specialisti, con personale anche socio-sanitario, dovremmo poter garantire una migliore e più capillare assistenza a domicilio e nel territorio. Però per fare questo bisogna scrivere nel più breve tempo possibile questo accordo integrativo, ma soprattutto bisogna trovare anche delle risorse aggiuntive. Quanto ci vorrebbe per risolvere queste criticità? Noi abbiamo fatto una stima che soltanto se noi vogliamo garantire l'ingresso delle AFT dei giovani medici, quindi pagandogli la medicina in rete, perché saranno messe in rete, con 4-5 milioni di euro l'anno per pagare il loro ingresso nelle AFT e retribuirli, potrebbero essere sufficienti.